Si è appena conclusa la stagione, Matteo Rabbottini, ma già possiamo dare una notizia ufficiale per la prossima stagione. Resterai con il duo Scinto-Citracca? Sì, la squadra comunque sia si rifarà. Siamo in attesa ancora del primo nome, però le basi ci sono per andare avanti. Quindi diciamo che resterai lì, è tramontata l'ipotesi di cui si parlava, di una possibile squadra proturra per te? No, comunque sia io qui sto bene, quindi ho ancora il contratto di un anno, quindi spero di crescere ancora il prossimo anno perché quest'anno non è andata come volevo. Nello sport si sa che poi alla fine le firme contano poco, se dovesse arrivare un'offerta importante in questi mesi sei libero di accettare oppure lo diamo al 100% che resti lì? No, lo diamo al 100%. Cosa non è andato bene, perché poco fa hai detto che non è stata una buona stagione per te? Ma dal giro in poi comunque sia non sono riuscito a trovare quella condizione giusta che serviva per ottenere una vittoria. E' proprio la vittoria che è mancata in questa stagione. Col senno di poi magari se avessi creduto un po' più in Visconti lo avresti seguito nella tappa del Galibie? Ma poi col senno di poi come dici tu non si sa come sarebbe andata, però purtroppo è andata così, spero di poter correre il giro il prossimo anno e poi sfrutterà meglio le mie carte. Ecco, 2014 obiettivo sempre Corsa Rosa per te, la tua corsa a cui tieni di più? Sicuramente. Grazie a tutti.